Centri medici radiologici che fanno capo ad alcuni dei medici coinvolti nell'inchiesta, ma anche agenzie di pratiche auto. Si allarga l'inchiesta sui forbetti del cartellino dell'Oretto Mare. Sono in corso da questa mattina da parte dei carabinieri del NAS indagini e perquisizioni su centri medici e agenzie che si occupano di incidenti stradali. Il filone investigativo è quello relativo all'ipotesi di falsificazione degli esami diagnostici e radiologici. Incidenti stradali finti insomma una vera e propria fabbrica del falso sia interna che esterna al nosocomio. Questa è l'ipotesi tutta da provare con tanto di perizie medico e legali false. E proseguono gli interrogatori di garanzia dei destinatari delle ordinanze di custodia e gli arresti domiciliari eseguite venere di scorso una decina di dipendenti dell'ospedale Ascoltati nell'ufficio del Palazzo di Giustizia al centro direzionale del GIP Pietro Carola che firmò i provvedimenti restrittivi che dispongono con gli arresti domiciliari l'obbligo per i dipendenti indagati di recarsi al lavoro misura adottata per non creare un grave disservizio. A quanto si è appreso la maggior parte degli indagati così come è avvenuto per una prima tranche di interrogatori svolti si sabato scorso si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Agli interrogatori ha partecipato anche il PMI da Frongillo titolare dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso Davino e intanto domani all'oretto mare circa 23 infermieri tecnici di radiologia e personale di reparto che lavoravano fuori Napoli vincitori della graduatoria della Napoli 21 prenderanno servizio. Dovevano partire dall'ospedale del mare ma a causa dell'inchiesta integreranno l'organico del nosocombio di via Marina.